Nei weekend da giugno a settembre ti aspettano i modelli prestigiosi di Dug Auto in alcune delle piazze più belle dell'Irpinia. 18 giugno Volturara Irpina, 25 giugno Ariano Irpino, 2 luglio Montella, 29 luglio Calitri, 2 settembre Abella. Mercedes-Benz, questa estate, tra le meraviglie dell'Irpinia. In tour anche le telecamere di Prima TV e Tele Nostra. Seguici sulla nostra pagina Facebook, Mercedes-Benz Dug Auto. Orecchie tese verso Roma. Nel pomeriggio si riunisce la Commissione Nazionale di Garanzia del PD. All'ordine del giorno il regolamento per celebrare congressi straordinari. Le carte in realtà sarebbero già pronte insieme alla Via Libera da dare alla Commissione Nazionale per il Congresso, che a cascata passando dal livello regionale attiverebbe le procedure per celebrare entro luglio il Congresso Democratico. Poche ore ma decisive. Dovesse trascorrere anche oggi in vano, l'atteso Via Libera slitterebbe a settembre. Tesserati online, dentro o fuori dal Congresso, pacchetti di tessere più o meno forti per decidere poi il futuro sindaco di Avellino. Di questo si tratta più che di mozioni o di segretari. Chi sta con chi per fare cosa? Il dibattito romano è condizionato anche dalla scelta della legge elettorale. Intanto in provincia prova a mettere radici MDP con assemblee itineranti. Oggi la volta di Cervinara. Sabato a Napoli, Pisapia, Tabacci e Bersani discuteranno del perimetro del centro-sinistra. Nel centro-destra non si segnalano iniziative di rilievo. La logica prevalente è del partito d'opinione, capace sul piano nazionale di recuperare consenso anche senza un'organizzazione locale forte e visibile. Ma verrà il tempo anche per gli azzurri di Irpinia di sedersi intorno a un tavolo e discutere con gli amministratori e i tesserati di cosa fare. Nel frattempo anche qui, tra legge elettorale e accordi, le orecchie sono tese verso Roma.